Sono le gemme! Loro sapranno di che si tratta! Yo! Ciao, voi sapete cos'è questo? Steven, meriti di conoscere la verità. E la verità è che... non ho idea di cosa sia quello a fare, non l'ho mai vista in vita mia. Fatti da parte, ametista, permetti... Allora, direi che si tratta di un'illustrazione su una specie di diario. Andiamolo, sai cosa intendo? Ho fatto un sogno in cui c'era questo. Io e Connie ci chiedevamo se forse... Steven, perché voi due adesso non... Non devi andarci! Perché no? Già, perché no? Pensavo che d'ora in avanti mi avreste detto tutto. Oh, Steven, noi... Ha forse qualcosa a che fare con Diamante Rosa? So già che la mamma l'ha frantumata, perciò cos'altro c'è che non potete dirmi? Per favore, Steven, stai facendo agitare Perla. No! Io mi sto agitando! Noi non ci andremo. Rose non voleva che tu vedessi quel posto. Rose non voleva. È quello che voglio io! Sono stufo di ascoltare le vostre bugie. Rose è mia madre. Lo capite o no? Non dovrei essere il primo a sapere la verità. Non è ancora il momento. Non mi importa! Voglio andarci adesso! Steven! Scusate, non avrei dovuto portare il diario. Invece hai fatto benissimo, perché qui potrò avere tutte le informazioni che non vogliono darmi loro! Connie, prestamelo, per favore. Ok, però fa attenzione. Devo riconsegnarlo fra una settimana. Grazie. Fermo, Steven! Dove vuoi? Steven, non andare. Devi fidarti di me, ti prego. Io non ti capisco, Garnet. Di solito con me sei sincera? Vorrei esserlo anche stavolta. Ma se ti dicessi perché non devi andare, poi saresti solo più curioso. Cosa? Ora sì che sono più curioso! Dovevo stare zitta. Non puoi andarci perché non posso venire con te. Perché no? Garnet, dimmi perché. Ho paura. Io non riesco ad avvicinarmi a lei. Lei? Lei chi? Scusa! Accidente come ne esco adesso! Steven, ti prego. Resta qui. Per me. Non resterò. Lo so. Papà, mi serve il tuo aiuto. Ciao, va tutto... C'è un posto che vedo in sogno ed è reale. Ma le gemme non vogliono dirmi niente. Ha a che fare con Diamante Rosa. So che non vuoi essere coinvolto nel passato della mamma, ma... Io voglio sapere la verità. Questo non ha importanza. Io voglio sapere la verità.